Ha dato il meglio di sé il centro commerciale Cospea di Terni per celebrare i suoi vent'anni di attività. La direzione della struttura che fa capo a PAC 2000 a Conad, insieme ai commercianti dei 28 negozi infatti, ha organizzato una grande festa che si è chiusa con il concerto di Michele Zarrili. Siamo giunti finalmente alla data più attesa, una delle date più attese dell'anno, che è quella che attendiamo ed è il 14 luglio per la precisione, perché il centro commerciale Cospea nacque ormai il 14 luglio del 1994. Noi approfittiamo sempre dell'inizio dei saldi estivi per festeggiare questo nostro compleanno e quindi alla domenica successiva, all'inizio dei saldi, organizziamo questa festa per tutti i clienti e per ringraziarli, perché grazie a loro riusciamo ad essere comunque una struttura commerciale che, avendo ovviamente come forza le Claire Conad, ci fa stare sul mercato nonostante il periodo abbastanza difficile. Ricco di appuntamenti, l'evento che il Cospea ha promosso nelle aree esterne della struttura con un programma che ha previsto una grigliata gratuita per circa 2000 coperti, uno spettacolo della Violetta Endless Circus Tribute Band e il concertone finale. Ad arricchire l'offerta, anche giochi per bambini, dolci e cibi di strada e prodotti di piccolo artigianato, tra bancarelle e chioschi allestiti. Un programma per ringraziare in qualche modo tutti quelli che lavorano e tutti quelli che frequentano questa struttura, dimostrazione dell'attaccamento al territorio. Certo, assolutamente sì. Io, diciamo, figuro così in prima linea, ma non è dietro, ma è a fianco a me, anche se non si vedono, ci sono tantissime persone. La prima persona che è a fianco a me, ma è un po' nei paraggi, è il direttore delle Claire Conad, Maurizio Ciferri. Io ringrazio lui perché insieme a me ha curato tutta l'organizzazione e i dettagli per poter far sì che questa giornata sia una giornata bella, non solo per i clienti, ma anche per Terni stessa, che ormai è diventato un po' un appuntamento per tutti quanti.